Amici Trebi Meteo, bentornato a questo aggiornamento delle nostre previsioni. Vediamo che settimana ci attende bene, finalmente una settimana con un po' più di sole, anche se la situazione non è proprio tranquilla. Dei temporali continueranno a formarsi soprattutto nelle ore pomeridiane al nord e lungo l'Appennino e tra giovedì e venerdì una vera e propria perturbazione passerà anche al centro-sud, riportando qualche acquazzone in più. Però tutto questo, ripeto, in un contesto anche con belle schiarite e così temperature in aumento molto spesso al di sopra dei 25 gradi. Vediamo più in dettaglio, la prima parte della settimana vedrà una rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo e sull'Italia, anche se, come vi dicevo, qualche temporale potrà sempre formarsi soprattutto a ridosso delle zone montuose. Poi tra giovedì e venerdì temporaneo ritiro dell'alta pressione verso ovest, correnti più fresche raggiungono il nostro paese, qualche acquazzone in più anche al centro-sud, ma insomma la domanda che tutti si fanno è quando arriva l'estate quella vera, bella e stabile? Insomma dobbiamo avere ancora un po' di pazienza perché temo che anche settimana prossima sarà piuttosto variabile. Insomma, conti fatti, meglio aspettare proprio il sostizio. Con questo è tutto, per dettagli vi aspetto su 3dmeteo.com Grazie a tutti.